Il prossimo 27 agosto alle ore 21 e 30 presso il castello della bate a castellabate l'associazione concerto bandistico santa cecilia presenterà lo spettacolo c'era una volta un pezzo di legno e c'è ancora pinocchio storia di un burattino favola musicale per narratore e banda l'associazione concerto bandistico santa cecilia vi aspetta insieme ai vostri figli per rileggere alcuni episodi del romanzo di collodi sottolineato dalle note dei giovani componenti del concerto bandistico santa cecilia di castellabate diretto dal maestro leuca pezzuto con la partecipazione straordinaria in qualità di narratore dell'attore pierluigi orio per informazioni 339 44 04 524